Con quale bagaglio si torna a casa da Parigi? Un bagaglio sicuramente di un'esperienza che è molto importante non soltanto dal punto di vista curriculare, come potremmo dire, ma anche dal punto di vista tecnico perché l'ambiente che si può trovare all'interno delle Olimpiadi è un ambiente multiculturale estremamente importante che si può trovare solamente là e un'occasione di arricchimento culturale sia personale che sportivo importantissimo. Gioele Rossellini è tornato da poche ore ad Arezzo, era infatti partito alla volta di Parigi come preparatore fisico della Nazionale di Pallavolo Maschile della Slovenia che per la prima volta nella propria storia ha ottenuto una qualificazione per i giochi olimpici. È stata un'esperienza fantastica, ho già lavorato per due cicli olimpici all'interno dei sport olimpici ma questa è stata la mia prima partecipazione fisica al villaggio olimpico con una squadra che ha partecipato anch'essa per la prima volta la prima storica qualificazione per la Slovenia alle Olimpiadi quindi non ci sono aggettivi se non aggettivi estremamente positivi per descrivere un'esperienza da, speriamo non una volta nella vita, ma quel tipo di esperienza là. La Nazionale Slovena di Pallavolo Maschile si è fermata al quinto posto sconfitta dalla Polonia. Il risultato sicuramente da definire storico, rimane quel retrogusto un po' amaro perché il potenziale della squadra è un potenziale straordinario che è stato costruito negli ultimi 15 anni da quella che noi abbiamo definito la Golden Generation della Pallavolo Slovena e sapendo di poterci giocare ogni partita contro ogni avversario, poi ogni torneo dà i risultati che deve dare, ogni partita è una storia a sé. Joël a Parigi ha avuto la responsabilità di occuparsi di ambiti come la prevenzione degli infortuni, la preparazione atletica e l'allenamento per la forza. Quindi mi occupo fondamentalmente della salute fisica in primis degli atleti, ma poi della cosa che io ritengo essere quella più importante dopo la salute, ossia la performance, far sì che i ragazzi rendano non al 100% ma al 101% delle loro capacità fisiche all'interno delle competizioni più importanti durante la stagione sportiva, in questo caso estiva, che è quella delle nazionali. Little Volley invece dopo la sconfitta con i padroni di casa della Francia adesso punta comunque al podio. Si giocherà la medaglia di bronzo nella finale per il terzo posto contro gli Stati Uniti, agli azzurri l'in bocca al lupo di Rosellini. Sono tutti veramente in gamba, meritano assolutamente un risultato positivo in queste Olimpiadi, sicuramente puntavano a qualcosa in più, non c'è da nasconderlo da campioni nel mondo in carica, però sicuramente possono essere in grado di fare l'ultimo passo per prendere la medaglia di bronzo.